si george ci siamo dobbiamo andare va bene ci siamo diventerò papà per la quarta volta presto dobbiamo andare george george alex devo proprio andare tua moglie è barbara caro te la sei dimenticata certo che razza di sbadato che sono cara vieni andiamo george la valigia o alex meno male che ci sei tu certo adesso vado a prenderla o ragazzi accompagnate la mamma fuori vado a prendere la valigia e partiamo subito va bene va bene mamma resisti si oh mamma stai attenta oh mamma non farlo uscire ora eh no tranquilli tranquilli bambini andrà tutto bene presto avrete una sorellina o un fratellino non lo sappiamo ancora è una sorpresa sono curiosissima di sapere e di vederlo non vedo l'ora anche io lo vedo l'ora è già forza ragazzi saliamo in macchina eccomi sono pronto il gioco è fatto si parte ma papà papà Giorgio è io papà Giorgio ma si sente indicato di noi mamma papà Giorgio oh scusami caro sono troppo emozionato non capisco più niente Giorgio te la senti di guidare? certo adesso mi concentrerò ok questa volta ci siamo tutti possiamo andare sì le contrazioni si fanno sempre più forti non so proprio come mettermi per trovare un po' di sollievo oh mi dispiace coro certo certo mamma mia devo mettermi in piedi proprio non va coro provo a girarti provo a farti un massaggio nello schieno ah sì ecco bravo fammi un bel massaggio ai ai che male buongiorno signora Ferrari oh buongiorno sono la sua ostetrica mi chiamo Serena stia tranquilla andrà tutto bene ho visto che fuori ha tre bambini le faccio i miei complimenti e sì questo è il quarto quindi per lei sarà più facile si rilassi si deciderà al momento giusto le faremo l'epidurale così sentirà meno male sì sì vi prego qualsiasi cosa certo e lei mi raccomando non svenga chi io ah no no certo certo maicol Pamela sei una femminuccia come la chiamiamo io lo so Mariuccia bello Mariuccia perché no Camilla love mi piace no è più bello Mariuccia è un maschio la chiameremo essio bello come il nostro nuovo amico Michael bravissimo è un bel nome così lo potremo anche chiamare Ale raga ma sento delle urla provengono da quell'altra parte dove c'è l'altra porta è vero sarà un altro parto raga sarebbe bello spiare la mamma Pamela non so se sia proprio una buona idea sono un pochino ragazzi eh sì mi dispiace ragazzi ma dovete restare nella sala di attesa quando sarà nato ve lo faremo vedere Pamela te l'avevo detto che non era una buona idea eh vabbè oh guardate sono arrivati i nonni cari come state venite qui che vi abbracciamo cari cari è un momento speciale quando abbiamo sentito siamo accorsi subito esatto avete novità? no ancora niente dai andiamo vieni anche tu Michael andiamo a sederci avete pensato ai nomi? sì Alessio e Camilla no Mariuccia no Camilla e no ragazzi ragazzi sì vi presento ciao amici iscrivetevi al nostro canale così potete vedersi ancora e vedere nuove puntate vi aspettiamo ciao 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 ciao